Partiamo dalla differenza tra poliamore e poligamia. Per poligamia, quindi poligamos, matrimonio multiplo, si intende la pratica che è caratteristica di alcuni paesi del mondo e di alcune religioni di avere un nucleo familiare in cui un uomo, il padre della famiglia, ha più mogli che seleziona e che lo circondano. Quindi questo per quanto riguarda la poligamia. Il poliamore invece è un orientamento romantico. Alcuni lo definiscono uno stile di vita ma naturalmente si tratta di un'etichetta quindi ognuno lo percepisce a suo modo. Per quanto riguarda me, trovo che la cosa più giusta da dire sia un orientamento romantico per cui un individuo con o senza relazioni già in corso riconosce e valida per se stesso la sua possibilità di desiderare una relazione romantica, quindi una relazione a tutti gli effetti, sentimentale, compio di una persona. Lo stigma sociale di cui fanno esperienza le persone poli è enorme perché viene ovviamente considerata una forma di promiscuità a cui è stato dato un nome per validarlo. Questa è una cosa molto dolorosa perché in realtà è così tanto normalizzato il tradimento, la cultura del tradimento, che io trovo veramente strano il fatto che invece quando si tratta di una non monogamia etica come il poliamore questa cosa non venga appunto riconosciuta come valida. Perciò per una persona poliamorosa vivere la vita di tutti i giorni è abbastanza complessa perché sotto il punto di vista lavorativo, sotto il punto di vista della reputazione dell'altro è come qualcosa che mina un po' la serenità perché penso che ponga le persone davanti a un interrogativo grande cioè se alcune persone si sentono libere o comunque sentono che nelle loro corde è giusto fare così allora perché io ho sempre dato per scontato quello che ho vissuto? Perché alla fine le modalità relazionali a prescindere da quali siano sono sempre influenzate dal modo in cui funziona la società, funziona il mondo quindi è abbastanza rivoluzionario sia a livello di orientamento sessuale che è appunto anche di orientamento romantico porsi davanti a una situazione in cui si devia dalla norma ovviamente lo stigma sociale varia moltissimo secondo di dove lo si vive al sud ovviamente è molto più pesante perché è una cultura ancora più intrinsecamente patriarcale per cui non è concepibile il fatto che una donna per esempio ho desiderato di avere più partner o un uomo o qualunque altra persona comunque cioè non è normalizzato specialmente quando si parla di donne lo stigma sociale nasce e va abbracciato con lo stigma religioso io posso dire di essere raduce da un trauma religioso nel senso che ho frequentato per tantissimi anni una scuola cattolica ricordo nitidamente come io mi sentissi assolutamente sbagliata nell'età della mia preadolescenza quando cominciai a intuire soltanto che a me interessavano oltre ai ragazzi le ragazze questa cosa mi ha portato a sentirmi deviata mostruosa e tante altre cose chiaramente nel momento in cui a questa cosa si è aggiunto anche il livello della mia scoperta della mia autoanalisi e del mio avvicinamento al poliamore è stato ancora più pesante perché davvero a un certo punto penso che tu ti chieda ma sono io che ho un problema sono io che sono strana oppure è normale ma questo non è il mio posto il trauma religioso e la religione comunque gioca un ruolo fondamentale ci sono moltissimi e moltissime attiviste poli che sono religiose c'è una delle mie pagine preferite che parla di poliamore che si chiama The Tried Family dove c'è questo nucleo familiare composto da due donne e un uomo sono appunto una triade sono fondamentalmente cristiani non fanno altro che parlare di come appunto la religione possa essere integrata al proprio stile di vita è come questo non sia un discriminante però naturalmente è pure vero che tutta la cultura religiosa alle spalle di questa cosa ovviamente porta le persone che deviano dai concetti standard di modo di viversi l'amore e la sessualità a sentirsi allontanati però io trovo che il compromesso ci sia e sia possibile naturalmente e l'importante è soltanto che sempre più si crei uno spazio in cui le persone differenti siano accettate e non è per niente facile perché se si fa ancora così tante difficoltà con l'omosessualità figuriamoci quando si parla di poliamorosità l'argomento più inflazionato quando si parla di poliamore è la gelosia naturalmente perché tutte le persone sono un po' curiose di come una persona poli si approccia alla gelosia se la prova se non la prova perché ovviamente sta alla base del fatto di essere poliamorosi il fatto che tu desideri e instauri più relazioni sentimentali significative perciò anche i tuoi partner lo fanno se no non sarebbe poliamore c'è la falsa credenza che le persone poliamorose non provino gelosia questa cosa chiaramente fa sulla perché la gelosia fa parte di tutto uno spettro di emozioni umane che non vanno cancellate che non devono essere soppresse io dico sempre che la differenza nel modo di viversi la gelosia tra una persona monogama e una persona poliamorosa c'è ma il sentimento di base è quello cosa faccio io quando provo gelosia riconosco intanto che la gelosia è un'emozione parlante quindi la gelosia mi parla di quel fattore su cui io sono insicura ho paura che la persona in questione faccia stare meglio il mio partner piuttosto di me ho paura che non lo so io sia meno intelligente meno interessante meno piacevole di tale persona quindi cosa faccio faccio esperienza di questa emozione non la scarico sulle persone su cui sto ma è una cosa che io appunto vivo prendendomi il mio spazio e ripetendoci su una volta pronta vado a comunicare ai miei partner dicendo mi sono sentita così e questo mi ha fatto capire che sono insicura su questo fatto puoi rassicurarmi e questo è il modo in cui di base una persona poliamorosa tendenzialmente fa esperienza della propria gelosia personalmente è una cosa il modo in cui faccio esperienza della gelosia è molto leggero cioè si tratta degli istanti dei momenti che poi riesco tranquillamente diciamo a scavalcare sicuramente una cosa che fa smorzare la mia gelosia è conoscere i partner dei miei partner perché li umanizza non li mette su un piedistallo proprio perché non li conosco e anzi di solito bellissimo perché mi fa instaurare dei legami significativi con le persone delle mie persone ed è una cosa molto bella anche perché io suppongo che per la mia esperienza se qualcuno sta con una persona con cui ho una relazione significativa significa evidentemente che io e quella persona abbiamo delle cose in comune quindi solitamente è anche molto facile trovarsi bene ed è molto bello perché proprio costruisci i rapporti interpersonali in una maniera così diversa e significativa che io sto bene molte volte le persone mi chiedono oltre a ma sei gelosa mi chiedono ma come fai io sto sinceramente sinceramente bene da tempo ormai perché non è una cosa di cui ho fatto esperienza nell'arco dell'ultimo anno è una cosa di cui ho fatto esperienza negli anni e sono sempre stata una persona incredibilmente serena comunque nonostante sia normale avere delle piccole difficoltà delle cose di mezzo perciò la gelosia è assolutamente diciamo è la punta dell'iceberg ecco quello che io dico alle persone quando mi chiedono come fai a non essere gelosa e poi io gli spiego quello che io dico sempre alla fine della conversazione tutti quanti mi chiedono come faccio a non essere gelosa ma nessuno mi chiede come faccio a organizzare il mio tempo che è lì che sta la vera parte il vero scoglio di una relazione poli di una relazione poli